prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente un grazie dal profondo del cuore nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ame ci soccorrano o signore i meriti del santo vescovo graziano affinché come ti proclamiamo ammirabile in lui così ci gloriamo della tua misericordia verso di noi per il nostro signore gesù cristo tuo figlio che è dio e vive e regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli amen se ti chiami come il santo di oggi tantissimi auguri e per tutti la benedizione di dio raggiunga voi e le vostre famiglie ciao e a presto